Coach, che dire, una partita bellissima, poteva vincere una delle due squadre, sarebbe stato meritato in ogni caso. Cosa dire di questo derby? Bisogna dire che a Treviso ci sono due squadre molto forti che hanno dato vita a una bellissima partita. Credo che Ponzano alla fine abbia meritato di vincere perché è stata più concreta nei possessi finali, ma è stata una partita davvero tra due squadre forti, chiunque poteva vincere non avrebbe rubato assolutamente niente. Non cambia niente nella stagione di nessuna delle due squadre, ma secondo me è un gran bello spot per questa regione. Sono d'accordissimo, cambia che avremo due squadre di Treviso nella zona alta della classifica, che fa bene, come dici tu, per il nostro movimento. Sì, ce lo auguriamo sia noi che Treviso, sicuramente siamo partiti entrambi con il piede giusto, entrambi abbiamo tre vittorie, credo che faremo un campionato competitivo, oggi ne è stata la controprova. Grazie coach, bocca al lupo. Grazie.